cade all'interno di un pozzetto e muore tragedia questa mattina nel bellunese perde la vita un 63enne giovane mamma morta dopo il parto a doderzo ieri sera l'autopsia il decesso potrebbe essere stato causato da una embolia amniotica esce di strada e si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sul tasso di alcol e l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti a saccile denunciato un 48enne picchia la moglie con un tagliere e la manda in ospedale la vittima ha subito lesioni giudicate guaribili in dieci giorni l'uomo è stato lontanato da casa ben ritrovati gentili telespettatori grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva avete appena sentito i titoli più importanti le notizie che poi andremo ad approfondire nel corso del notiziario del nord est in primo piano sicuramente il infortunio mortale che è costato la vita un 63enne ma parleremo anche di incidenti stradali del dramma che ancora si sta vivendo in queste ore dopo la morte dopo il parto di una giovane mamma emergono dei particolari dopo l'esame autoptico che è stato effettuato ieri sera ma parleremo anche di sicurezza di furti di immigrazione di politica che sicuramente fa discutere in particolare la normativa sugli spazza corrotti quindi questa appunto è la novità che sta tenendo banco negli ultimi giorni la domanda che abbiamo posto l'esame precedente spulso l'imam nelle prediche criticava chi frequentava gli italiani sei d'accordo sì il 74 per cento di voi no invece il restante 26 per cento come sempre il ministro dell'interno matteo salvini viene criticato a destra e a manca ci sono sicuramente delle tesi che fanno discutere ma è la stampa ormai che diciamo così gli da delle responsabilità gli imputa delle responsabilità piuttosto importanti questa volta è il caso del giornalista michele santoro che dice così migranti il giornalista santoro attacca salvini tiene gente in erne in ostaggio ed arrestare siete d'accordo arrestate lui il lui e matteo salvini a dirlo o meglio a scriverlo è michele santoro l'editoriale che il giornalista ha vergato sul proprio sito è una vera e propria invettiva nei confronti del ministro dell'interno di fronte al mondo civile mi vergogno scrive di essere italiano mi vergogno di avere un ministro dell'interno che si chiama matteo salvini non è il ministro della sicurezza è il ministro della guerra civile trattiene impunemente gente in ermi in ostaggio si sostituisce i magistrati nell'indicare reati celebra processi sommari pronunciando a mezzo stampa sentenze che prevedono il carcere per chi non condivide la sua disumanità se c'è uno che va processato è lui se c'è uno che ha invaso la nostra vita è lui se c'è uno che va arrestato è lui queste le dichiarazioni questo è quanto scrive quindi oggi il giornalista santoro sul proprio blog cosa ne pensate allora migranti santoro attacca salvini tiene genti in ermi in ostaggio ed arrestare siete d'accordo ce lo fate sapere se lo ritenete opportuno sms whatsapp la nostra email la diretta streaming facebook ed instagram i nostri canali social per condividere le notizie commentarle sempre essere aggiornati su quanto accade a nord est tra altre cose stanno ancora arrivando video filmati dei vostri viaggi e le vostre avventure delle vostre vacanze dei momenti particolari che avete trascorso magari in giro per il mondo chi per viaggio chi per diletto chi per magari un viaggio di nozze è partito ieri con grandissimo successo oggi c'è stata la replica molto seguita alle 13 di viaggiando insieme la prima avventura ce l'ha così raccontata descritta in un video michela di aviano il suo bellissimo viaggio in laponia nel villaggio nella terra di babbo natale venerdì invece vi proporremo sempre a partire dalle 18 e 15 18 e 20 un altro viaggio fatto da due ragazzi in india così facendo insomma avremo tante altre bellissime immagini poi da proporvi nelle prossime settimane inviateci i vostri contenuti i vostri video amatoriali al montaggio ci pensiamo noi sono venute anche persone oggi direttamente con una chiavetta con un così con un mezzo tecnologico col quale avete poi fatto magari delle riprese dei video delle immagini non fate altro che portarci il cellulare il computer la handy cam la telecamera quello che avete collegato con un cavetto a partire dalle 15 e 30 ogni giorno troverete appunto dei ragazzi che poi prendono i filmati li portano nelle nostre cartelle dei nostri sistemi sarete voi i protagonisti quindi nel raccontare il vostro viaggio dei sogni vi ricordo che è una sorta di concorso perché poi tutti questi video che poi ci girate noi li montiamo facciamo dei veri propri speciali raccontando queste vostre avventure alla fine quindi in un periodo compreso tra settembre e ottobre avrà estratto il video che avrà raggiunto diciamo così le grazie di voi telespettatori quello che ha ricevuto maggiori consensi i fortunati quelli che ovviamente ce l'hanno inviato riceveranno un buono un voucher un omaggio quello che volete insomma così definirlo per fare un bellissimo viaggio offerto insomma da una nostra agenzia partner agenzie insomma viaggi partner che hanno appoggiato e stanno appoggiando questa nostra iniziativa non volete portarcelo telepordenone ovviamente emissione chiocciola telepordenone.tv la nostra email per inviarci tutti i vostri filmati apriamo il telegiornale cade in un pozzetto e muore tragedia questa mattina nel bellunes a perdere la vita un e 63 ne allora cominciamo così questo notiziario tragedia questa mattina a sedico nel bellunese attorno alle 8 infatti i vigili del fuoco sono stati allertati per un signore caduto in un pozzetto nei pressi della propria abitazione in località seghe di villa il bilancio di un 63 anni deceduto l'uomo secondo quanto ricostruito dai soccorritori era intento a chiudere la sala cinesca principale della condotta dell'acqua su richiesta dell'idraulico quando probabilmente a seguito di un malore è caduto a testa in giù nel tombino i pompieri a corsi da belluno sono riusciti ad estrarre l'uomo purtroppo nonostante i soccorsi del personale medico del 118 è stata dichiarata la morte dell'uomo subito dopo lo stesso personale dei vigili del fuoco ed anche del suo m118 si è recato sempre a sedico in via caldemessa per un signore ottantenne andato a sbattere con una moto ape contro ad una barriera dissuasore del parcheggio l'uomo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco privo di segni vitali il personale del suo m118 ha praticato la rianimazione cardiopolmonare e dopo la ripresa dei segni vitali l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in ospedale parliamo adesso di un pedone austriaco di 51 anni che è stato investito ieri sera a san giorgio di nogaro allora vediamo le sue condizioni nel prossimo servizio 51 anni austriaco residente a san giorgio di nogaro è stato investito nella tarda serata ieri sulla strada statale 14 all'interno del centro abitato della cittadina della riviera friulana l'uomo ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasportato in gravi condizioni a udine da quanto riferito ai carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto l'uomo sarebbe stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada davanti alla propria abitazione erano circa le 18 e 30 lo stesso investitore si è fermato a prestare soccorso ed allertare il 118 i sanitari sono giunti poco dopo con un'ambulanza dal vicino pronto soccorso di porto margaret per prestare le prime cure all'uomo e trasferirlo d'urgenza a udine giovane madre morta dopo il parto a oderso ieri sera si è tenuta l'autopsia il decesso potrebbe essere stato causato da un'embolia amniotica allora il servizio lo cura alessio conforti è terminata ieri in serata all'ospedale di oderso l'autopsia sul corpo di francesca schirinzi la 34enne deceduta la scorsa settimana dopo il parto del secondo figlio sempre nell'ospedale petergino dopo tre arresti cardiaci l'esame è stato eseguito dal medico legale antonello cirnelli incaricato dalla procura la donna potrebbe essere morta per un'embolia amniotica con il riversamento del liquido nel sistema circolatorio che avrebbe causato i tre arresti cardiaci l'indagine ha inoltre evidenziato come la donna abbia subito una massiva emorragia dal canale vaginale si proseguirà con tutti gli accertamenti e le analisi della cartella clinica comparati con quelli di laboratorio i medici indagati dalla procura per concorso in omicidio colposo sono cinque è arrivato infine il nulla osta per i funerali della giovane mamma che si svolgeranno sabato alle 15 a castrignano del capo nelle cese paese suo di origine e la città di pordenone si distingue anche per beneficenza e adesso vediamo alcune foto che io ringrazio cinzia botteon che tra altre cose la responsabile del lion club di pordenone ci ha inviato lion club appunto di pordenone perché questa mattina la presenza tra gli altri del vice sindaco eligio grizzo nella casa di riposo umberto primo in piazza della motta appunto il lion club pordenone host con una semplice breve cerimonia ha consegnato in dono dei libri per gli ospiti degenti ottemperando al service libri donati che appunto il lion club pordenone anche quest'anno uno era uno appunto degli obiettivi che la stessa associazione si era prefissato negli anni precedenti libri donati sono stati appunto dal lion consegnati alla casa serena al carcere alla casa famiglia di via colvera alle suore del convento a po fabbro ed è una iniziativa delle undici che quest'anno appunto come service il lion club si è appunto così prefissato di realizzare complimenti insomma a questa associazione tra le altre cose appunto nella foto vediamo oltre al presidente del pordenone host fabio simonella cinza francesca botteon il vice sindaco eligio grizzo il presidente della casa di riposo umberto primo e infine appunto andrea santarossa del referente del lion del service libri donati quindi insomma complimenti a queste persone che si spendono insomma fanno delle iniziative a scopo benefico per tutta la comunità cittadino croato denunciato a udine per maltrattamenti e la moglie mentre a rivignano un giovane è stato denunciato per furto di una banconota da 100 euro il servizio i carabinieri della stazione di tricesimo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare messo dal tribunale di udine nei confronti di un croato residente nella provincia l'uomo si sarebbe reso responsabile di ripetute aggressioni fisiche nei confronti della propria coniuge l'ultima risale a pochi giorni fa con la donna che ha dovuto trasferirsi al pronto soccorso per le visite sanitarie con una prognosi di 10 giorni mentre a rivignano i carabinieri della locale stazione hanno definito in stato di libertà per ipotesi di reato di tentato furto aggravato un 26enne del posto il quale avrebbe tentato di asportare una banconota da 100 euro che una signora aveva appena prelevato da uno sportello bancomat una donna di 50 anni è stata arrestata questa mattina a pordenone con le accuse di furto aggravato e in debito utilizzo di una carta di credito si tratta appunto di m.l queste sono le sue iniziali cittadina italiana proprio residente a pordenone badante tra altre cose di una coetanea sempre classe 69 con dei disturbi psichici cosa ha fatto questa badante nel tempo in un periodo compreso tra dicembre 2018 e gennaio 2019 ha prelevato indebitamente dei soldi soldi ha prima rubato il bancomat alla amica coetanea poi si è così divertita andare a prelevare somme per un valore complessivo di circa 1000 euro i parenti della signora insomma con disabilità psichica si sono accorti hanno detto ma insomma tutti questi soldi il bancomat che fine hanno fatto e hanno segnato il fatto ai carabinieri bravi come sempre insomma i militari dell'arma guidati dal maggiore luciano sumo si sono messi subito la ricerca hanno individuato anche grazie ai sistemi video sorveglianza presenti nei vari istituti di credito che a prelevare queste somme era stata proprio la badante questa mattina è stata insomma raggiunta dai militari dell'arma stessi ha dovuto insomma confessare anche perché non c'era altro da fare immortalata dalle varie telecamere è stata appunto quindi arrestata per furto aggravato in debito utilizzo della carta di credito è stata data insomma la misura degli arresti domiciliari rimaniamo a Pordenone ma parliamo di cose un po' più piacevoli soprattutto quando si parla di cittadini anziani questa amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Ciriani che ringrazio di essere qua in nostra compagnia si dimostra sempre molto sensibile per esempio sindaco cosa succederà in via San Quirino so che state portando in approvazione un progetto proprio per gli anziani guardi appena mi sono insediato ho fatto fare una cosa che non è mai successa un censimento degli immobili di proprietà del comune abbiamo scoperto una cosa davvero singolare cioè che il comune è proprietario di una serie di immobili che erano in condizioni di totale degrado l'ho ritenuto una cosa paradossale anche un enorme spreco per cui abbiamo cercato le risorse per destinare questi immobili a un utilizzo socialmente rilevante, utile, impattante uno di questi è un condominio con otto appartamenti in via San Quirino totalmente disabitato e praticamente inagibile da certi punti di vista tranne un appartamento in cui abita una vecchissima signora che beneficerà di questa riqualificazione abbiamo disposto 830 mila euro questo condominio è prospicente a Casa Colvera quindi un modello, uno dei punti di riferimento per anziani semi autosufficienti e abbiamo deciso di ripristinarlo, di riqualificarlo destinandolo proprio ad anziani semi autosufficienti a giugno quando scadrà l'affidamento per la gestione di Casa Colvera metteremo in gara Casa Colvera con questo nuovo condominio sicché cerchiamo di coprire tutte le esigenze e necessità della popolazione anziana che sta crescendo sotto diversi punti di vista da un lato con la creazione delle nuove case di riposo dall'altro con la sistemazione del centro di torre e poi anche con l'implementazione con l'aumento dei posti per anziani semi autosufficienti cioè significa piccole residenze, piccole stanze però assistite il che dimostra un'attenzione e qui devo ringraziare anche l'assessore Grizzo che ha seguito direttamente questo progetto l'attenzione che abbiamo nei confronti di una quota sempre più consistente della nostra popolazione che ha superato i 65 anni, in alcuni casi è decisamente molto più anziana perché riteniamo che gli anziani e i loro familiari debbano poter contare su strutture pubbliche di qualità Ecco Sindaco, è sicuramente l'amministrazione comunale attenta anche ai bisogni delle persone delle persone magari appunto che non hanno disponibilità economiche magari ci sono dei casi di povertà sono anche persone straniere che si sono integrate nel territorio ma non riescono magari a trovare ancora un'occupazione o quant'altro l'amministrazione comunale in questi casi come interviene? C'è un tesoretto a disposizione? Ci sono delle formule appunto per così non soltanto per mettere un'integrazione maggiore ma soprattutto per venire loro incontro? Più che un tesoretto parlerei di uno stanziamento importante che riguarda le politiche sociali di questo comune, di questo ambito è bene che i nostri concittadini sappiano che le spese di politiche sociali impattano per circa 20 milioni di euro, sono tanti soldi è vero anche che la casistica sta aumentando perché al comune di Polona viene chiesto di seguire il tema della dipendenza della prevenzione dell'uso di stupefacenti nei confronti dei giovani della marginalità sociale, dell'inclusione sociale, degli anziani, delle famiglie povere ci sono numerosissimi strumenti che vengono utilizzati ci sono circa 3.500 cartelle sociali aperte nel comune che significano 3.500 casi seguiti direttamente dai nostri servizi sono molti, sono parecchi, non tutti con la stessa gravità ma c'è anche un altro aspetto che purtroppo questo numero è destinato ad aumentare perché con l'attività che svolgiamo all'interno dei quartieri quelle che noi chiamiamo un po' le nostre sentinelle all'interno dei quartieri che sono operatori di strada piuttosto che operatori sociali aumenta il numero di queste persone è vero anche, però se mi permette qui faccio una considerazione anche di carattere politico anche ieri mattina era un tavolo legato a emergenze di crattere di integrazione sociale di persone straniere, dei figli mi domando se spendiamo tutti questi soldi e se abbiamo necessità di completare il processo di inclusione di persone straniere che vivono qui magari da parecchi anni se qualcuno deve porsi la domanda sia senso richiamarne di altri prima magari completiamo il processo di integrazione, di inclusione di perfetta integrazione di queste persone nel tessuto sociale sanitario, scolastico, familiare e dopodiché eventualmente apriamo le porte ad altri altrimenti rischiamo davvero, perché nessuno lo sa rischiamo di far esplodere la spesa sociale senza ottenere risultati significativi quindi esistono progetti, esistono misure, esistono finanziamenti però occorre che il numero di queste persone non venga ad aumentare anche perché tra queste 3500 cartelle sociali numerose riguardano famiglie italiane che sono passate da una condizione, non dico di benessere ma comunque di autosufficienza a condizioni di parziale non autosufficienza legate a una famiglia che si separa a problemi di disoccupazione all'invecchiamento, al fatto che il figlio non trova lavoro ecco, tutte queste questioni portano delle famiglie non a chiedere l'emosina perché non ne hanno bisogno, perché hanno dignità ma sicuramente a chiedere l'aiuto del comune per integrare una parte del loro reddito sono considerazioni che non c'entrano nulla con il razzismo che non c'entrano nulla con la xenofobia ma c'entrano con il buon senso e con la gestione oculata delle risorse pubbliche Il sindaco ha sentito quanto è successo oggi a San Donato Milanese questo autista senegalese che ha dirottato uno scuolabus e poi gli ha dato fuoco voleva suicidarsi a Linate per fermare le morti nel Mediterraneo tra le altre cose è stata contestata l'aggravante del terrorismo quindi allarme ancora e sicurezza questa volta ci sono questi lupi solitari che magari possono colpire in qualsiasi parte d'Italia avviene probabilmente anche la problematica del problema delle risorse delle persone che vestono la divisa è un problema che riguarda la questura di Pordenone Rappele Padrone è spesse volte intervenuto qua dicendo abbiamo una grossa carenza di organico si sta muovendo la politica anche il sindaco sta facendo la propria parte beh guardi io penso di essere stato uno dei pochissimi sindaci che si è recato a Roma ed è stato anche ricevuto dall'allora capo di gabinetto al ministero degli interni per chiedere rinforze alla questura ed effettivamente al tempo c'era Minniti come ministro una risposta poi si ebbe quindi ci fu un parziale rinforzo del nostro organico la politica non si deve fermare deve continuare ad andare avanti anche perché il gap la lacuna che esiste tra il personale che dovrebbe essere in servizio e quello effettivamente in servizio è effettivamente grande noi non stiamo mollando la presa ci stiamo lavorando e spero dico spero anche perché non può essere solamente il sindaco mi auguro che anche chi ha responsabilità più alte delle mie agisca nella stessa identica maniera spero di portare qualche buona notizia nell'arco di qualche mese nel senso che stiamo pressando ad ogni livello affinché Pordenone possa avere un organico all'altezza della sua situazione è vero anche però che non giova o meglio giova il fatto che Pordenone è in cima alle classifiche sulla sicurezza e conseguentemente è chiaro che il ministero degli interni dice quando devo distribuire personale lo do prima a quelle realtà che sono minate e inquinate dalla mafia dall'andrangheta da fenomeni di particolare rilevanza e pericolosità e dopo ad una città parzialmente tranquilla come Pordenone io ho risposto però questo dicendo che quando si raggiungono standard così elevati è sbagliato dire che dovete accontentarvi perché l'importante sarebbe mantenere questo standard e possibilmente esportarlo anche altrove ecco perché non mogliamo la presa così come siamo riusciti a portare a casa un risultato importante un anno, un anno e mezzo fa continuiamo a lavorare affinché almeno una certa quota di personale che uscirà dai futuri corsi degli allievi della polizia possa arrivare a implementare il personale dell'attuale questura Sennaco, per chiudere l'episodio di San Donato e Milanese cosa ci dice? Siamo ripiovati nell'emergenza terrorismo anche visto poi alla luce dei fatti che si sono verificati in Nuova Zelanda insomma queste persone che poi aprono il fuoco e non sanno davvero le ripercussioni che possono fare ma anche il caso dei morti del Mediterraneo l'emergenza migranti è continua in Friuli, Venezia e Giulia bene o male siamo riusciti ad arginarla invece a livello nazionale la situazione si complica un po' più difficile soprattutto se non si trovano poi degli accordi importanti con le altre nazioni soprattutto l'Europa dimostra ancora una volta di voltarci le spalle Alcune rapide considerazioni il caso Pordenone è un caso, direi, modello noi siamo riusciti ad arginare quella che era un'atletica ondata anomala di persone che sono arrivate in città e l'abbiamo totalmente normalizzata anche oggi un quotidiano che lei dovrebbe conoscere bene pubblicava che il modello questura, prefettura, comune di Pordenone ha funzionato benissimo al punto tale che sono diminuite le presenze e si fa un filtro netto tra coloro i quali hanno diritto di rimanere di godere della protezione del nostro paese e coloro i quali invece questo diritto non ce l'hanno non solo, coloro i quali non hanno diritto e si comportano male vengono anche presi attraverso le indagini svolte alla questura rimpatriati o messe nei centri per i rimpatri il caso di San Donato Milanese, il caso come di un pazzo che tra l'altro era stata accreditata la patente bisogna forse magari vedere chi sono le persone a cui affidiamo i nostri figli per portarli in corriera e si legava a che cosa? si legava ad una rivendicazione per le morti nel Mediterraneo ecco, l'emotività non è mai una buona alleata dei ragionamenti che riguardano fenomeni peccali come l'immigrazione qui occorre invece fare delle considerazioni molto più profonde che riguardano, come c'è lei, l'Europa che riguarda il futuro, lo sviluppo di questi paesi l'Africa è uno dei continenti che ha il tasso di sviluppo più alto dell'intero mondo conseguentemente qualche domanda bisogna porcela su tutto poi l'ultimo caso la nave Ionio che occupa le pagine dei giornali che nulla a che vedere col salvataggio di vite umane ma è una provocazione fatta da ex protagonisti dei centri sociali come Metz e come Casarini che violenti nella vita politica fino a qualche tempo fa oggi si scoprono delle verginelle dei canni di manti ecco, questo è assolutamente inaccettabile perché usare vite umane come strumento di propaganda politica è quanto di più osceno e vomitevole possa esistere conseguentemente il fenomeno di migrazione è estremamente complicato non lo riusciremo sicuramente a sviluppare in pochi secondi ma dobbiamo togliere le questioni emotive San Donato Milanese potrebbe essere una tragedia grazie a Dio non è stata il caso dell'Ionio e affrontarlo invece da un punto di vista serio è una cosa vergognosa l'immigrazione è una tragedia ma si risolve, ripeto, non trasportando un continente in Europa ma al contrario consentendo, come abbiamo sempre detto lo sviluppo e il fiorio progressivo dell'economia dei loro paesi io sostengo il blocco navale perché noi dobbiamo far capire a queste persone che se vengono nel nostro paese non c'è il paese di Bengodi ma probabilmente è una prospettiva molto più triste al contrario l'immigrazione si gestisce a piccoli nubri e consentendo l'integrazione cioè la piena presa di consapevolezza che se tu vieni in Italia devi sposare l'ordinamento giuridico, la cultura, le tradizioni la storia di questo paese se non ti piace questo paese è talmente libero è talmente democratico che ti può anche dire guarda se non ti piace vai da un'altra parte una considerazione sicuramente lecita quella da parte del sindaco Alessandro Cirani che ringrazio e diamo appuntamento nelle prossime edizioni grazie ancora sindaco per essere stato con noi copia di anziani truffata e derubata in casa da un giovane allora il servizio due anziani coniugi triestini sono stati raggirati e derubati dei propri averi da parte di un giovane di 30 anni dalla tipica parlata locale il quale aveva suonato al loro campanello spacciandosi per tecnico del controllo dei termosifoni una volta all'interno dell'abitazione ha avuto il placet dei due anziani in pochi minuti ha avvistato nei cassetti della camera da letto arraffando il più possibile sempre con fare furbino ha effettuato una falsa telefonata per confermare al presunto datore di lavoro inesistente che il controllo da lui eseguito non aveva portato ad anomalie dei termosifoni a questo punto se n'è andato solo dopo la moglie ha scoperto il furto allertando la questura attraverso il 112 la polizia di stato invita a difidare da questi comportamenti messi in atto da malviventi che cercano di carpire la fiducia di persone deboli come gli anziani o che vivono da sole per mettere in atto truffe e raggiri in caso di sospetto chiamare immediatamente il numero di emergenza 112 e torniamo a parlare di migrazione questa volta tra credenti e miscredenti il punto allora di Alberto Rossi nel Bollino Rossi amici di Telepordenone buonasera chi lo avrebbe mai detto l'Italia sembrerebbe il paese in Europa più razzista a dirlo alla ricerca di un importante istituto americano che ha monitorato il sentiment del popolo italiano italiani brava gente accogliente, generosa, allegra, ospitale e intollerante il paese europeo più religioso ma anche il più insofferente e guarda caso l'insofferenza si nasconderebbe di più tra coloro che si dichiarano praticanti sembrerebbe una contraddizione eppure i dati ci raccontano questa storia credenti e razzisti l'ha capito per primo Matteo Salvini ve lo ricordate lo scorso anno quando in chiusura di campagna elettorale in Piazza Duomo, Milano, Gremita di gente ha giurato brandendo in una mano la Costituzione italiana e nell'altra il Vangelo Cesare e Dio peccato che l'intolleranza non abbia nulla a che fare né con l'uno né con l'altro il problema però è molto insidioso perché i linguaggi usati dai politici rischiano di creare un fenomeno a cascata dalle conseguenze inaspettate il rischio è che dalle parole si passi ai fatti e i fatti ci raccontano dei sempre più frequenti episodi di intolleranza che si verificano in giro per l'Italia anche da noi è recentemente capitato in un bar di Borgo Meduna una cittadina tailandese è stata aggredita da un avventore insultata e schiaffeggiata senza un apparente perché ma l'aggressore ad un certo punto ha esclamato a ragione Salvini devi tornare a casa tua capite quanto il linguaggio le parole devono essere sempre misurate soppesate evitando di parlare alla pancia della gente chi fa politica ha grandi responsabilità la prima di tutte suggerisce prudenza equilibrio moderazione non serve urlare ma semplicemente parlare al cuore e alla intelligenza delle persone in alto i cuori e io con Giovanni Rampogna il cittadino che ringrazio ancora per essere i nostri compagni e ripartirei proprio da queste affermazioni da Alberto Rossi che dice attenzione soprattutto se si copre un incarico istituzionale importante come un ministro dell'interno quello che deve garantire la sicurezza non può utilizzare dei linguaggi così forti aggressivi non deve urlare e soprattutto non deve comunicare la pancia delle persone e le condivide ma certo con quanto dice appunto l'amico Rossi senz'altro anzi rinforzo e saluto cordialmente questo intervento di Rossi il quale affronta la problematica sociale in termini democratici e rispettosi ha fatto anche un buon intervento il sindaco del comune di Pordenone quando ha detto che le case vanno date alle persone che meritano di essere date per le loro situazioni socio-economiche evidentemente qui la situazione si sta aggravando sempre più perché non il perbenismo nemmeno il buonismo prevale prevale una sorta di situazione quasi di semiabbandono della situazione il presidente del consiglio deve assolutamente prendere in mano la situazione per dare spazio alle giustezze delle rivendicazioni dal popolo sull'occupazione sulla sanità sulla scuola alcune situazioni vanno senz'altro informate e messe a misura non possiamo lasciare le cose così l'immigrazione l'immigrazione è un male per tutti e si viene affrontata male ci sono due mali un male perché è l'immigrazione e un male perché non si affrontano bene e non si risolvono le situazioni coloro i quali entrano in queste nel nostro stato italiano democratico una repubblica costituzionale che la costituzione non è stata regalata ma è stata conquistata e voi immigrati prendetevi la briga di comprare una nostra costituzione beh la vedo dura la vedo dura rampogna insomma anche perché insomma abbiamo visto più volte queste cooperative che li tengono un po' fra regolette ostaggio dei loro labori altre cose figuriamoci se non tempo di legge la costituzione non tutte le cooperative fanno quello che vogliono però ce ne sono di quelli che hanno presidenze dallo stipendio da cifre astronomiche noi che veniamo dal freddo e da lontano sappiamo a chi ci rivolgiamo quindi dovemmo anche far bene le cose così e per quanto riguarda il ruolo degli immigrati nel nostro stato devono comportarci bene rispettare e poi scusatemi chi vi parla viene dal oltre che dal freddo anche dalla povertà più misera più misera non si vale l'emosina è offensivo per tu che la chiedi e per noi che la diamo e io non sono un caritatevole ma mi fa specie questa fra virgolette fatevi spiegare significato da qualcuno mi rivolgo appunto agli immigrati fatevi spiegare che è una situazione offensiva non possiamo tollerare davanti ai supermercati alle chiese eccetera andare alle lemosine andate in comune incazzatevi col comune che non vi dà l'assistenza democratica e sociale ma il comune insomma dà l'assistenza a chi ne ha bisogno e a chi ha requisiti certo non è che può dare l'assistenza urbi e torbi no però abbiamo queste realtà l'elemosina non è una ricchezza l'elemosina è un'offesa per i cittadini e quindi vecchio alza la testa che il potere te la rompe grazie come sempre l'amico Giovanni Rampogna ci vedremo nei prossimi appuntamenti non mi scusi ho dovuto puntualizzare a onore del vero sei requisiti accedi al canale dell'assistenza se non hai requisiti le carte in regola è perché il comune deve darti assistenza ci sono altre realtà che possono fare al tuo caso insomma approfondiremo comunque in altre occasioni esce di strada e si rifiuta di sottoporsi gli accertamenti sul tasso di alcol e l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti e stupefacenti a Sacile viene denunciato un 48enne il servizio un 48enne di Fontana Fredda è stato denunciato dai carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sacile per essersi rifiutato di effettuare gli accertamenti sul tasso di alcolemia e l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti reati previsti degli articoli 186 e 187 del codice della strada il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte dello scorso 18 marzo secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma l'uomo era uscito autonomamente di strada con la propria vettura un Alfa Romeo 156 in via Fratelli Rossetti a Sacile giunti sul posto i carabinieri si sono accorti di come l'uomo seppur in colume evidenziasse sintomi da abuso di sostanze alcoliche lo stesso ha riferito di come non disponesse della patente di guida poiché è revocata gli due anni prima invitato a sottoporsi ad accertamento il 48enne si è rifiutato categoricamente venendo alla fine denunciato l'auto è stata recuperata dal soccorso stradale il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti equivale fanno sapere i militari dell'arma ad autonome ipotesi delittuose inerenti sia alla violazione per guida sotto l'influenza di stupefacenti che sotto la guida di sostanze alcoliche peraltro con valori di alcolemia pari a 1,5 grammi per litro di sangue cerimonia di consegna stamattina la presenza del direttore generale dell'azienda per assistenza sanitaria 5 del Friuli occidentale Giorgio Simone della direttrice amministrativa Lorena Basso nel servizio di neurofisiopatologia della struttura complessa di neurologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone diretta dal dottore Paolo Passadore di un elettromiografo strumento fondamentale per la diagnosi nell'ambito delle malattie neuromuscolari è un'azione dell'ingegnere Luigi Cimolai presidente di Cimolai S.P.A. rappresentata dalla dottoressa Chira De Pellegrin l'apparecchio consente di effettuare una completa ed approfondita batteria di test diagnostici neurofisiologici nello specifico analizza alterazioni dell'unità motoria mediante ago elettrodo verifica alterazioni della conduzione sensitiva e motoria dei tronchi nervosi studia la velocità di conduzione midollare con potenziali evocati sensitivi o motori le malattie neuromuscolari sono caratterizzate da forme che interessano principalmente i corpi cellulari le fibre nervose del muscolo gli stretti muscolari coinvolti le funzioni deficitari dipendono dal tipo di patologia neuromuscolare ad esempio appunto dal difetto di prensione appunto della mano alla difficoltà di camminare o salire le scale fino all'insufficienza respiratoria per deficit dei muscoli respiratori c'è un'alleanza auspicabile con il privato che può contribuire a rendere possibile un salto di qualità alla società perché la salute non può essere solo un servizio al quale rivolgersi in caso di bisogno ma deve essere un patrimonio condiviso che aiuta la società a prendere consapevolezza appunto in quanto garantire l'assistenza a tutti sia un'evidenza di coscienza civile lo ha detto il vicepresidente e assessore alla salute Riccardo Riccardi esprimendo il suo personale ringraziamento per la donazione effettuata quest'oggi dalla Cimolai S.P.A. come vedete tra altre cose in queste immagini in queste foto che sono state direttamente trasferite dall'azienda sanitaria 5 del Friuli occidentale strutture sicuramente alla vaguardia lavori nei presidi ospedalieri assamito a tagliamento a Pordenone Valerio Dalle Fratte consigliere comunale assamito al tagliamento tra altre cose anche medico bastano questi lavori o bisogna andare oltre per avere una sanità migliore nella nostra regione ma soprattutto nel Friuli occidentale beh sicuramente questi gesti come abbiamo visto nel servizio mi unisco ai ringraziamenti per questo gesto che non è solo per il valore non solo e non tanto per il valore dell'apparecchiatura ma quanto proprio per la testimonia la vicinanza che alcune persone alcuni imprenditori hanno nei confronti della sanità e del bene comune sappiamo che le strutture non sono l'unica l'unica arma che abbiamo per garantire un invecchiamento di qualità la salute nel momento in cui c'è bisogno di ricovero per le persone per i nostri concittadini vediamo in questi anni in questi periodi fare molti lavori sulle strutture ma sappiamo anche che ci sono carenze notevoli per quanto riguarda il personale non solo medico ma anche paramedico allora io sto seguendo le vicende che riguardano il dibattito sulla salute e sulla riforma che l'assessore intende portare avanti nei prossimi anni per questa regione e quello che vorrei fare questa sera è un appello è un appello a mettere in pratica quello che fino adesso si è detto perché continuare a ripetere che si vuole potenziare i distretti sociosanitari che si vuole integrare di più il sistema con quello privato che si vuole assumere personale nonostante blocchi e quant'altro non basta più non basta più perché è passato oramai un anno dalle elezioni e c'è bisogno di vedere qualcosa d'altro credo che i cittadini siano ben consapevoli soprattutto quelli naturalmente che hanno avuto modo di affrontare che hanno avuto necessità delle strutture sanitarie vedano quello che sta succedendo e credo che sia veramente arrivato il momento di parlare di dialogare non solo fra addetti ai lavori per capire bene quello che c'è da fare e non fare errori che magari sono stati compiuti in passato ma dialogare con i cittadini spiegare loro quello che si sta facendo e anche quello che si potrà avere in futuro speriamo di migliore rispetto a quello che c'è stato fino adesso perché anche dei tagli che ci possono essere sulle strutture possono essere avere degli svolti positivi questo da operatore ne sono ben consapevole ma bisogna che le popolazioni i cittadini i nostri concittadini siano informati ben informati su questo e condividano le scelte voglio fare una domanda un po' anche tecnica lei parlava di tagli parlava di strutture e parlava e anche di carenze si è parlato spesso anche di carenze delle persone ci sono le strutture private ecco le volevo chiedere il futuro della sanità va verso il privato o il pubblico riuscirà comunque malgrado tagli malgrado mancanza di risorse comunque buoni standard per quanto riguarda la sanità io non farei un discorso di qualità perché la qualità è garantita sia nel pubblico che nel privato oggi come oggi possiamo dire che è grazie ai privati che si sta sopperendo a delle carenze evidenti nel settore pubblico bisogna trovare la quadra bisogna trovare il giusto compromesso fra integrazione fra pubblico e privato perché non si può oramai prescindere da questo sempre più spesso l'abbiamo visto anche nella questione delle pensioni lo Stato è stato costretto a indirizzare i propri cittadini quindi gli italiani verso forme di previdenza anche diverse da quelle tradizionali lo stesso avverrà per la sanità questo è imprescindibile perché altrimenti i conti non torneranno la popolazione sta invecchiando sempre di più troppa poca gente lavora troppa poca gente contribuisce anche con le proprie tasse quelli che pagano le tasse se ne pagano troppe quindi questo causa un cortocircuito nel sistema quindi è evidente è più che evidente che l'integrazione fra pubblico e privato sarà assolutamente indispensabile e quindi ben vengano gli imprenditori privati che in questa fase sono stati assolutamente hanno avuto un'azione meritoria sono stati molto in gamba nel permettere anche a tutti quanti quindi anche tenendo le tariffe in un certo modo di accedere a servizi che altrimenti sarebbero stati di molto posticipati o addirittura inaccessibili grazie davvero al dottore Valerio delle Fratte che ha tante cose consigliere comunale in quel di San Vito a tagliamento grazie ancora per essere stato con noi furti in abitazione nella notte a Caneva sui singoli casi indagano i carabinieri tre tentati furti e due andati a segno in poche ore è il bilancio dell'ultima nottata a Caneva i carabinieri della locale stazione stanno infatti indagando sugli episodi denunciati questa mattina ad alcuni residenti in via Perina nell'abitazione di un'ottantenne vedova i ladri entrati dal garage lasciato aperto e comunicante con l'interno casa sono riusciti a portare via denaro in contante per 170 euro monili d'oro di scarso valore e generi alimentari come banane prosciutto e latte in via Turati sempre a Caneva i malviventi attorno alle 3.25 del mattino hanno cercato di entrare nell'abitazione di un imprenditore di 55 anni mediante la tecnica del foro su infisso in legno ma sono stati messi in fuga dal proprietario attirato dal rumore del trapano a batteria in via Perina invece i gnotti si sono introdotti a casa di un'operaia di 53 anni rompendo il cilindro della serratura della porta e facendo sparire 120 euro in via Borgo Masutti a casa di un 82enne pensionati i malviventi hanno invece tentato di rompere la porta d'ingresso non riuscendoci a causa di alcuni chiavistelli interni infine in via Pradego tra le 2.30 e le 3 del mattino è stato tentato nuovamente un accesso ad un casolare disabitato situato nelle pertinenze di un'abitazione dove vi era una 28enne barista i ladri non sono riusciti ad asportare nulla i fenomeni predatori in provincia non finiscono qui nella notte tra il 16 e 17 marzo infatti a Prata di Pordenone in via Opitergina i gnoti si sono introdotti al music bar locale gestito da un 34enne cinese dopo aver scassinato le slot machine sono riusciti a portare via oltre 2000 euro in questo caso indagano i carabinieri di Prata di Pordenone apriamo adesso uno spazio una finestra culturale vi propongo un servizio che riguarda una mostra che è stata inaugurata al Parco Galvani a Pordenone e poi gli amici del Festival Internazionale del film due ospiti avete presente le magnifiche illustrazioni di infanzia di Sarmede ebbene fino al 14 aprile sono ospitate a Pordenone al palazzo del fumetto di Parco Galvani 90 le opere provenienti dalla mostra internazionale le immagini della fantasia firmate dai migliori illustratori per bambini a organizzare l'esposizione la cooperativa Mela Arancia nell'ambito della rassegna Fiaba Libera Tutti per asili e scuole elementari e medie vengono organizzate visite guidate e laboratori creativi artistici dal bricolage alle bolle di sapone i laboratori sono dei laboratori interattivi in cui si propone prima la visita la mostra in maniera interattiva e ludica per poi passare alla parte laboratoriale che si basa comunque sulle opere illustrate le opere presenti in mostra con i laboratori in cosa consistono? allora sono laboratori che si basano sulle storie che sono raffigurate nelle immagini di Sarmede e sono laboratori artistici laboratori con materiale di recupero laboratori che si basano sul collage e anche c'è una parte dedicata alle bolle di sapone che colorate trasformano il foglio lo colorano per poi appunto elaborare un disegno basato sulle opere questo anche con un fine didattico ovviamente assolutamente il tema di quest'anno della rassegna è la trasformazione quindi l'obiettivo anche un po' del nostro lavoro che non è solo artistico ma anche pedagogico è dare la possibilità al bambino di trasformare quello che è l'ambiente circostante attraverso i materiali e gli strumenti che gli vengono dati durante il laboratorio e con la creatività e immaginazione creare un'opera l'iniziativa è sostenuta dal comune di Pordenone questa è la quarta mostra che realizziamo insieme a Mellarancia che è uno dei pilastri educativi della nostra città significa dare spazio ai bambini alla creatività a modelli educativi a corsi di pedagogia attività di formazione professionale perché questo spazio è dedicato a tutti in particolare ai bambini e ai genitori per iscrizioni ai laboratori e informazioni sulla mostra si possono visitare i siti di Mellarancia e del PAF iniziativa sicuramente rivolta ai bambini ai ragazzi come ragazzi sono protagonisti della seconda edizione del Festival Internazionale del Film io ringrazio due amici oltre ad essere insomma due persone che veramente vivono a 360 gradi questo tipo di progetto il dottor Alessandro Varisco tra altre cose il direttore del Festival Internazionale del Film e il dottor Nevio Zorzetto che è responsabile del progetto Alternanza Scuola Lavoro e anche organizzatore della Kermesse grazie ancora ad entrambi perché dal 27 al 30 dottor Varisco torniamo con questo appuntamento dopo il debutto fortunato l'anno scorso si ritorna appunto con il Festival Internazionale del Film ci vuole inquadrare un po' con l'iniziativa grazie direttore torniamo con la seconda edizione dopo come diceva lei il successo dell'anno scorso quest'anno il Festival il PIF Pordenone International Film Festival ha sicuramente un valore aggiunto perché abbiamo sicuramente molti più film in concorso un concorso aperto a tutte le scuole d'Italia e non solo anche a registi del mondo sono arrivati in concorso 156 film da 22 paesi di tutto il mondo caspita eh sì il tema il risultato anche perché vuol dire che il progetto funziona e soprattutto ha avuto una visibilità giusta ha avuto una visibilità giusta perché siamo stati invitati io e il collega che è qui con me al Festival del Cinema di Berlino dove abbiamo potuto presentare il progetto davanti a tutto il mondo cinematografico che era lì in quell'occasione il PIF quest'anno come l'anno scorso si è dedicato al tema del bullismo della violenza sulle donne e quest'anno invece affronterà il delicato tema delle dipendenze in tutte le sue più ampie eccezioni quindi le dipendenze a cui purtroppo i nostri giovani sono sicuramente più esposti dalla droga alla ludopatia sono delle piaghe incredibili sono delle piaghe incredibili l'aumento dei giovani anche a Pordenone che vanno nei parchetti a consumare ad acquistare droga sempre più giovani quindi fate bene che poi attraverso appunto i film a sensibilizzare appunto su questo problema le persone soprattutto proprio attraverso il linguaggio cinematografico vorremmo arrivare ai ragazzi che parteciperanno alle quattro giornate del festival parlare proprio al cuore al cuore loro ma non insomma ma con dei dibattiti noi faremo vedere dei filmati dei film che sono arrivati in concorso avremo la possibilità di incontrare i registi e gli attori di questi film e potranno aprire un dialogo con loro un dialogo costruttivo vogliamo questo che sia il festival del cinema deve essere costruttivo tra altre cose dottor Zorzetto venerdì la conferenza stampa di presentazione a Pordenone una stagione che si annuncia già essere fortunata da che cosa sarà caratterizzata lei che tra altre cose guarda da vicino l'ambiente giovanile ma il punto cardine è la presenza dei giovani sia l'anno scorso che quest'anno grazie alla collaborazione e alla disponibilità di alcuni dirigenti e dei docenti di alcuni scusando la ripetizione della parola di istituti scolastici abbiamo la possibilità di avere un numero corposo quasi un centinaio se ben ricordo di ragazzi con i quali far affidamento alla vera gestione del film del festival chiedo scusa collaborano alla selezione dei film alla gestione proprio concreta del festival quindi secondo me un grosso un grosso riflettore deve essere rivolto a loro e poi soprattutto anche le dipendenze come già sono ovviamente le dipendenze e piaghe che in tutti i modi devono essere debellate e contrastate certamente sì noi vogliamo dare dei punti di riflessione non vogliamo assolutamente prenderci degli incarichi che non abbiamo la competenza di farla però il fatto stesso che per ben già due anni il prossimo anno è già ovviamente un focus già deciso toccare queste problematiche significa che secondo noi e secondo noi intendo tutto lo staff ovviamente del PIF siamo sensibili alle stesse ecco non anticipiamo altro perché poi assolutamente andiamo ad anticipare i contenuti della conferenza stampa vi daremo poi insomma il servizio venerdì quando poi nella sala consigliare il comune di Pordenone verrà presentata questa manifestazione appuntamento al 27 al 30 marzo c'è qualcos'altro in pilole da aggiungere dottor Varisco sicuramente è una cosa che ci fa molto piacere che abbiamo ottenuto dei riconoscimenti ad alto livello il Parlamento europeo ha concesso il patrocinio all'iniziativa e il Ministero della pubblica istituzione anche quindi oltre che alla nostra regione e a tutta la parte soprattutto un grande ringraziamento al nostro sindaco all'amministrazione comunale ai nostri assessori perché quest'anno più che mai ci hanno veramente preso per mano e ci stanno accompagnando in questa avventura senza di loro senza la regione senza l'amministrazione non avremmo fatto il festival bravi davvero anche perché insomma spendersi e per orare queste cause non è da tutti soprattutto non è da tutti i giorni grazie davvero grazie a voi a Sandro Varisco e a Nedio Zorzetto che poi insomma ci vedremo nei prossimi giorni anche nell'ambito della conferenza stampa e nel pre-inizio quindi festival internazionale del film giunto alla seconda edizione grazie ancora per essere stati con noi dog sitter denunciato per maltrattamenti a Trieste vediamo i contenuti del prossimo servizio incredibile a Trieste un dog sitter invece di accudire amici a quattro zampe li maltrattava causandone sempre secondo la ricostruzione delle volontarie la morte di almeno quattro animali mentre molti altri avrebbero riportato ferite e malattie a seguito delle gravi condizioni igieniche in cui si trovavano la conferma dell'intervento di ieri sera arriva direttamente dai carabinieri di Trieste che sono intervenuti intorno alle 20 in uno stabile della zona nei pressi dell'università su segnalazione delle volontarie la dog sister non voleva restituire alla legittima proprietaria i due cani dateli in affido per qualche giorno che sconcertata per l'accaduto ed arrabbiata ha immediatamente allertato le forze dell'ordine accorse poco dopo indagini in corso andiamo in Veneto allora vediamo se c'è l'ospite di Alessio Conforti mi sembra che si tratterà proprio di un ambiente molto di un tema molto importante come quello dell'ambiente sì anche perché torniamo a parlare Alberto della manifestazione sul clima dei giorni scorsi anche perché continua l'eco e di fatto anche le prese di posizione quella che è di fatto quello che è di fatto un monito deve per forza farci riflettere sui cambiamenti climatici ed anche insomma sulla necessità di cambiare gli stili di vita Giorgio Barro ce la faremo? allora beh innanzitutto partiamo da una considerazione importante ritengo che la manifestazione e manifestare dei giovani sia una cosa buona nel senso che finalmente si trova un motivo per cui i giovani tornano a impegnarsi fuori da etichette politiche fuori da qualsiasi considerazione partitica o meno l'argomento chiaramente è sentito parlare del clima quando anche nel nostro territorio ogni cambiamento climatico abbiamo delle difficoltà è chiaro che è una cosa assolutamente buona però io penso e ritengo che sia assolutamente importante che ogni cambiamento che noi vogliamo fare si ok manifestare però bisogna capire anche che cosa capire cosa siamo disposti a noi a fare perché la domanda che mi rivolgo prima a me stesso chiaramente e poi anche a tutti i giovani che hanno avuto questa attenzione e almeno i giovani che erano insieme con loro è personalmente cosa sono veramente disposto a fare a fare perché il clima torni a un clima migliore ecco che qua la domanda che mi pongo è sono disposto a fare un passo indietro con la mia tecnologia nel senso questo telefonino qua se anche non ha rette non è che mi arrabbio tanto se non ho l'antenna sopra a casa non possiamo avere l'antenna sopra a casa parlare di inquinamento elettromagnetico e poi lamentarsi che non abbiamo segnato un esempio siamo disposti a non lamentarsi se non c'è incaldo in casa nel senso di avere un grado o due di temperatura di riscaldamento in meno se cominciamo perché questi sono piccoli gesti un altro piccolo gesto è riusciamo ad avere una macchina senza l'aria condizionata un negozio senza l'aria condizionata un ufficio senza l'aria condizionata che questo crea veramente tanto danno al clima allora quando noi cominceremo a fare dei piccoli gesti noi quotidianamente allora questo è veramente la rivoluzione per un clima nuovo per un clima migliore perché se no ci fermeremo solo tra virgolette a chiacchiere anche inutili e dai piccoli gesti che poi si parte il vero cambiamento e la vera rivoluzione si fa sempre con i piccoli gesti e con l'esempio una piccola goccia fa anche cadere una grande frana che pericoli ci sono visto che lei oltretutto è un conoscitore tra l'altro anche essendo un geologo di quello che è poi il sistema terra al di là del sistema terra io direi che lo vediamo quotidianamente questa variazione climatica cosa comporta comporta abbiamo visto per esempio pochissima neve questo inverno cosa vuol dire problemi per la siccità problemi di adeguamento idraulico e quindi e poi abbiamo di colpo le famose bombe d'acqua troppa urbanizzazione troppo asfalto troppo cemento cosa hanno portato che l'acqua non drena più con un ciclo normale e quindi è tutto un susseguirsi però io ripeto che anche nel nostro modo nuovo di costruire ci deve essere un'attenzione diversa ma cominciando da noi stessi per primi bene ci torneremo grazie a Giorgio Barra per essere stato con noi e anche poi tornare a Pordenone dunque parliamo adesso di spazzacorrotti questa norma che fa molto discutere questa norma che ha fatto inferocire più parti sindaci amministratori politici associazioni e quant'altro poi ne parleremo anche con l'amica consigliera Mara Piccini ma intanto ne abbiamo discusso nelle scorse ore con Alessandro Basso consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per il gruppo di Fratelli Italia vediamo lui cosa ci risponde in merito ma soprattutto se appoggia questa normativa la posizione di Fratelli d'Italia su questa iniziativa la posizione di Fratelli d'Italia è nitida a partire da un disegno di legge che il senatore Ciriani ha depositato proprio quest'oggi per abolire quell'articolo infamante che cancella la democrazia che di fatto proibisce la presenza di persone che hanno fatto parte negli ultimi dieci anni nella politica all'interno delle associazioni e delle fondazioni questo si tratta di un populismo dilagante emanato da una certa parte politica di questo grillismo imperante che non permette poi di esercitare realmente la democrazia le persone che si sono occupate di politica sono persone che hanno un'esperienza tale che vengono inserite appositamente all'interno di questi organismi proprio per il valore aggiunto che riescono a dare pensate che la norma imporrebbe la certificazione dei bilanci a tutte le persone che ospitano degli ex politici all'interno dei loro organismi statutari inaccettabile il senatore ha giustamente presentato un provvedimento e noi in regione ne presenteremo uno analogo per cancellare velocemente questa nota questa legge infamante e continuiamo a parlarne lo facciamo con chi tra altre cose ha presentato il progetto di legge nazionale appunto in regione Fulimenezia Giulia la consiglia regionale Mara Picin di Forza Italia dottoressa ben ritrovata grazie ben ritrovati a voi allora ha sentito queste impressioni queste dichiarazioni di Alessandro Basso cosa possiamo dire in merito a questa norma che tanto ha fatto discutere e tanto farà discutere possiamo dire che quando si pensa di diventare più realisti del re si perde anche il re ma allora questo è veramente un errore legislativo questo è veramente un accanirsi nei confronti del nulla allora riassumendo io coordinata poi dai nostri parlamentari io come gruppo di Forza Italia in consiglio regionale assieme ai colleghi consiglieri e assieme poi ai parlamentari della nostra regione all'onorevole Savino all'onorevole Novelli e al senatore Dalmas che presenteranno appositi provvedimenti e abbiamo redatto e devo dire a dimostrazione che questo argomento non ha colore politico se non una parte di colore o anche sottoscritto la mozione che i colleghi del PD hanno presentato in consiglio regionale perché vedete non è pensabile dire che se all'interno prendiamo uno dei nostri comuni dei comuni più piccoli della nostra ex provincia se in un comune di montagna dove ci sono 300 persone e dove c'è una persona che da 8 anni o da 9 anni non fa più il consigliere comunale ma lo ha fatto 9 anni prima e attualmente fa parte del proloco del paese che organizza la manifestazione una volta all'anno piuttosto che una sagra tradizionale magari centenaria fa parte la festa della pittina la festa della pittina piuttosto che magari senza fare inferimenti però per far capire al telespettatore significa che la presenza di questa persona all'interno dell'associazione fa sì che l'associazione debba rispettare i parametri di trasparenza in un partito politico quindi significa che servono certificazioni esterne per i bilanci che muovono più di 5.000 euro tanto per essere chiari allora io credo che questo sia un insulto al volontariato al no profit alle tante persone che si sono occupate della cosa pubblica che vorrei ricordare non è una cosa sporca la cosa pubblica il consiglio comunale soprattutto nei piccoli comuni ma anche nei grandi è una funzione ed è una missione rispetto alla quale un cittadino si pone di fronte alla società e io aggiungo che mi piacerebbe che tutti nella loro vita facessero un'esperienza di consigliere comunale o di maggioranza di opposizione così caro direttore ci si rende conto che si vanno a trattare e a toccare veramente fino in fondo i problemi e le tematiche più piccole della società e delle persone che ci vivono attorno allora io credo che come ho esordito questo sia un errore un grossolano errore legislativo chi governa non può calare la realtà di grandissime città magari anche di altre latitudini dove la criminalità dilaga dilaga al nord e al sud ma magari perdonatemi in alcune zone dilaga magari dilaga un po' di più non si possono paragonare grandi realtà di milioni di abitanti a piccoli comuni che hanno 200 o 300 persone ci vuole un distinguo bisogna essere seri nell'affrontare queste problematiche è giusto combattere la corruzione ma è altrettanto giusto dare la possibilità a chi si è sempre occupato della propria comunità di continuare a farlo senza poi dover avere un aggravio in termini di costo e di burocrazia per le piccole associazioni e per questi enti no profit ma ne continueremo sicuramente a parlare grazie davvero alla dottoressa Mara Piccini consigliera regionale in Friuli Venezia Giulia per Forza Italia l'aspettiamo poi nelle prossime edizioni del nostro telegiornale certamente nei giorni scorsi abbiamo parlato anche di Pordenone Pordenone che cambia che sta cambiando ma soprattutto che cambierà cambierà anche dal punto di vista della viabilità abbiamo discusso ieri sera con l'assessore Cristina Mirante con il consigliere di maggioranza Mattia Tirelli del Pums insomma di questo piano della mobilità che insomma dimostra come ci siano appunto delle necessità necessità ovviamente da portare avanti da perorare per così modificare l'assetto appunto viario della città stessa ne parliamo perché giusto anche è parlarne con un consigliere di minoranza a Pordenone che insomma fa capo alla civica Pordenone 1200 e appunto 91 ma soprattutto anche esponente di vivo Pordenone non c'è Alvaro Cardin allora giustamente il passaggio del testimone è lecito dottor Roberto Freschi ben ritrovato grazie per essere in nostra compagnia grazie direttore senta allora ultimo consiglio comunale si è parlato di molti temi la viabilità viabilità a 360 gradi che riguarda la città ma che riguarda anche l'Interland di Pordenone che situazione vede all'orizzonte ma soprattutto giuste le decisioni che questa maggioranza sta portando avanti allora diciamo che c'è un punto focale che forse è una contraddizione di fondo la maggioranza ha presentato lunedì in consiglio il piano il PUMS nel senso del piano di dettaglio del PUMS cioè si prende in considerazione una zona della città specificatamente la zona del ring una parte del ring soprattutto però facendo un'affermazione che l'attuale PUMS cioè quello vigente approvato nel 2015 dovrà essere rivisto diciamo che il punto critico è un po' questo cioè noi ci saremmo aspettati una revisione del PUMS visto che questa amministrazione dice che il PUMS precedente non risponde a quelli che sono gli obiettivi e quelli che sono le strategie della nuova amministrazione ma vorrebbe cambiarlo e pertanto ci troviamo con questa contraddizione che la cornice generale non è pronta cioè diciamo lavoriamo sulla cornice precedente però entriamo nel dettaglio e si vanno a toccare alcuni punti del ring allora ci sono alcuni aspetti che erano già previsti come ad esempio il tratto il doppio senso in Viale Marconi il tratto che va da Largo San Giovanni a Piazza Duca d'Osta perfetto per cui si va un po' a entrare nel merito di quegli aspetti con l'implementazione di due rotonde che ci stanno quella in prossimità di Viale Matteotti in prossimità di Via Beato Dorico però il problema è che si va a toccare una parte della città senza prendere in considerazione in questa fase che entrando nel merito di quell'ambito ci sono dei flussi di traffico che andranno a spostarsi da altre parti siccome il traffico non diminuisce ma si sposta a nostro avviso qui è un passaggio che ho fatto in consiglio comunale specificatamente ho chiesto che si pensi in qualche modo a sistemare la situazione di Viale Grigoletti di Viale Venezia della Ponte Bani in genere sostituendo gli attuali semafori che ci sono con delle rotatorie perché se il traffico si deve spostare le altre arterie devono essere in grado di poter supportare una mole diversa di flussi diciamo che il piano ha degli aspetti anche positivi ma vanno visti in una situazione più generale che non ci è stata presentata noi speriamo che questa situazione generale di conoscerla perché ragionare in modo completo permette anche di fare poi delle formazioni e dei passaggi più specifici io ho fatto anche una proposta perché voglio essere anche costruttivo l'opposizione deve essere anche costruttiva ho fatto una proposta ad esempio anche su Piazza Risorgimento rispetto al progetto che è stato presentato cercando di far capire che sulla piazza si possono fare anche interventi di tipo diverso salvaguardando le aree verdi sia a nord della piazza sia a sud in modo tale da permettere anche una circolazione ma permettere anche alle attività commerciali e alle abitazioni di avere degli spazi al di sotto che siano diciamo un po' più distanti dalla strada per cui ci sono tutta una serie di aspetti che sono sul tavolo noi abbiamo cercato da parte mia cercato di dare degli input dopo sta l'amministrazione attuarli o prenderli in considerazione oppure no il piano come dicevo prevede altre zone del ring ma il tempo non mi permette di entrare nel merito avremo altre occasioni però ecco quello che manca forse è la cornice generale per cui ci stiamo muovendo ancora sugli indirizzi precedenti e vorremmo capire quale sarà la visione generale della città per poter poi anche entrare nel dettaglio mentre qui siamo entrati nel dettaglio senza avere forse il quadro la cornice ma ne discuteremo sicuramente anche magari in maniera più approfondita intanto grazie sarà un argomento che ci terrà abbastanza attenti grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a Roberto Freschi dirigente di Vivo Pordenone consigliere comunale a Pordenone andiamo in Veneto e poi torniamo a Pordenone per concludere questa primissima parte con Mattia Lenardon di Forza Italia Porto Gruaro perché si parla tanto di partiti però è giusto anche fare le riflessioni sulle liste civiche perché da più parti si sente dire che a livello generale ovviamente i partiti sono una cosa le liste civiche sono un'altra ma insomma da capire se sono un ruolo di supporto ai partiti Renardon oppure se possono essere dei veri e propri motori di cambiamento sappiamo bene la storia di Porto Gruaro le liste civiche sono sempre stato la prima importanza sono sempre state delle liste civiche molto forti sia che riguardi la sinistra che sia che riguardi la destra noi come Forza Italia abbiamo aperto alle liste civiche un confronto perché i temi sono importanti e soprattutto portiamo avanti quelle che sono le esigenze di molte di queste liste civiche e quindi un confronto vero sui temi attuali di politica di Porto Gruaro e le esigenze che ci sono qui secondo me sono importanti e secondo me è importante affrontarlo con quelle che è la gran parte del territorio laddove non arriva un partito e arriva la lista civica possiamo esprimere e portare avanti un problema e risolverlo al meglio secondo me al di là insomma di quelli che possono essere gli scenari la lista civica può rappresentare un quid in più un qualcosa in più o secondo lei da qui ai prossimi mesi visto anche come andranno le elezioni europee saranno sempre i partiti ad essere determinanti no i partiti avranno sicuramente un peso molto importante però la lista civica è sempre riuscita a dare nello storico di Porto Gruaro è sempre riuscita a dare quel qualcosa in più quel qualcosa che ti porta verso un obiettivo verso il risultato dell'obiettivo che avevi fissato abbiamo l'ultimo esempio delle ultime di queste ultime amministrative che sono state svolte a Porto Gruaro la lista civica ha portato la differenza la lista civica però che era anche sostenuta in quel caso dai partiti quindi torniamo sempre al discorso di prima di fatto un'aggregazione che può essere dettagliata un'aggregazione importante e che serve serve soprattutto nel territorio locale perché si riesce ad avere sia un maggiore consenso ma soprattutto una miglior capillarità sui problemi del territorio 30 secondi Forza Italia come si risolleva in vista delle europee Forza Italia si risolleva sta lavorando molto molto bene e avremo ottimi risultati ovviamente non potrebbe dire altrimenti lei ma lo scenario politico lo stiamo vivendo però i sondaggi insomma poi raccontano anche avremo delle sorprese staremo a vedere grazie per essere stato con noi linea che può tornare a Porto Gruaro parliamo adesso di femminicidi purtroppo un'altra piaga che riguarda non soltanto l'Italia ma riguarda un po' tutto il mondo tra altre cose altri episodi si sono verificati anche oggi ieri tra Milano e altre aree d'Italia io chiedo a Margherita Cusine del Coda Cons del Prio Occidentale che ringrazia grazie avvocato per essere nostra compagnia si sta facendo abbastanza per contrastare questo fenomeno allora sì dal punto di vista normativo abbiamo comunque dei buoni strumenti per affrontare il problema si potrebbe fare di più in particolare diamo un po' di numeri di dati perché se ne parla ovviamente tanto ed è giusto che ci sia attenzione però anche gli scorsi episodi delle ultime due sentenze del Tribune di Genova e di Rimini sono state riportate nei mezzi di stampa in maniera non completamente corretta e quindi si rischia di fare un'informazione non totalmente positiva i reati di femminicidio stanno aumentando stanno diminuendo allora stanno diminuendo così come gli omicidi e circa si calcola un quarto degli omicidi totali avviene nei confronti contro le donne l'Accademia della Crusca definisce il femminicidio un atto di violenza commesso nei confronti delle donne da parte degli uomini in conseguenza dice il dizionale del mancato assoggettamento fisico o psicologico della vittima la maggior parte delle vittime donne ha più di 64 anni e la maggior parte degli uomini che commette questo reato sono italiani e costituiscono il partner o l'ex partner della vittima dal punto di vista normativo come dicevo il nostro ordinamento ha comunque legiferato in materia quindi ha coperto quella che era una lacuna in particolare nel 2013 il Parlamento ha ratificato la convenzione di Istanbul in contrasto alla violenza di genere ed è stato emesso il decreto legge sul femminicidio il decreto legge cosiddetto anti-femminicidio del 2013 che ha anche modificato la normativa sullo stalking che è stata introdotta nel 2009 in particolare è stata introdotta l'aggravante della violenza assistita cosa significa che è appunto colui che commette violenza nei confronti di una donna di fronte a dei bambini subirà un aggravante oppure quando la violenza viene commessa nei confronti di una donna incinta e quello che si auspica è un aumento delle pene e delle sanzioni in particolari per il cosiddetto omicidio di identità che cosa significa tutti quegli atti con i quali si sfregia la vittima tanto da procurarle una deformazione acido cose del genere e anche appunto un rigidimento delle sanzioni per coloro che non rispettano il dovere di allontanamento dalla famiglia che è un dato che può interessare sul quale si può riflettere è che la maggior parte di questi atti avviene nei primi tre mesi dalla separazione invece c'è un calo forte di questi eventi dopo i primi cinque anni dalla separazione quindi evidente che bisogna intervenire per prevenire questi fatti in tutte quelle coppie in cui ci sono delle situazioni di separazione perché si è visto che avvengono anche in concomitanza di sentenze di udienze quindi evidentemente queste persone vanno maggiormente accompagnate in un percorso che non sono in grado di affrontare e che si conclude con questi fatti gravissimi pensiamo che si calcola che un giorno ogni tre giorni avviene un femminicidio quindi sicuramente dobbiamo lavorare per diminuire ma soprattutto poi anche avvocato giusto ripetelo io lo dirò all'intito denunciate i fatti il fisso dice il cento d'oggi andate dai carabinieri dalla polizia da chi volete dal vostro legale di fiducia anche perché vi racconto questo fatto nei giorni scorsi in un paesino della Pedemontana Pordenonesi non dico ovviamente la località anche per preservare poi ci sono dei minori una donna è stata picchiata dal marito in presenza di minori è arrivata l'ambulanza signora facciamo la denuncia no no allora mi capisce avvocato è inutile che stiamo a formalizzare facciamo appunto le massime summe quant'altro se poi effettivamente la donna che subisce la violenza poi non denuncia il fatto perché ha paura o dice no lo faccio per i miei figli perché magari no 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 denunciate denunciate per l'amor di Dio che potrebbe essere la volta che poi questa volta vi picchia la seconda finite dentro a una tomba perché purtroppo questa è la coda realtà dei fatti non vanno giudicate non vanno giudicate queste donne perché le loro motivazioni sono profonde però denunciate certo e una notizia importante è che le denunce sono aumentate quindi questo è fondamentale perché appunto come le diceva se non vi è la denuncia non si può procedere ecco quindi è importante che se ne parli e che si aumenti la consapevolezza della gravità del fatto avvocato grazie come sempre Margherita Cusine delle Codacons delle Friuli occidentale ora l'Osmer e la Borsa tutte le tre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto rimanete poi con noi perché la serata proseguirà all'insegna dell'informazione con tutta una serie di nostri nuovi programmi Buonasera a tutti situazione meteorologica decisamente improntata al bel tempo nei prossimi giorni per un'alta pressione che si espande dal vicino Atlantico all'Europa centrale anche al versante sud alpino e una depressione sull'Africa invece continua a far affluire i correnti nord orientali secche e via via però più moderate e più deboli domani ci aspetta c'è un genere sereno su tutte le regioni con qualche gelata possibile di notte anche localmente in pianura che in partito è un po' più umili intorno ai 7-8 gradi sulla costa massime poi saliranno 15 gradi sulla costa fino a 17-18 anche in pianura dal vero termico dai 1500 metri di mattino salirà fino ai 3000 metri della sera in montagna quindi con l'arrivo a punto di aria decisamente più umita in quota dopo domani ma così anche nel fine settimana quantomeno per quanto riguarda da sabato ci aspetta ancora cielo sereno a salvo il passaggio di qualche temporanea velatura il vento di bora presente domani sostenuto sulla costa moderata in pianura da dopo domani tendrà ad attenuarsi ancora presente venerdì direi invece lasciare al posto la bellezza sabato con temperature che rimangono abbastanza fresche di notte quindi ancora valori non lontani di 0 gradi in pianura intorno agli 8 gradi sulla costa nei massimi invece salgono arrivando a 20 gradi venerdì e superandoli anche sabato e poi probabilmente anche domenica quindi escursione termica in aumento nei prossimi giorni appunto tra delle nottate mattinate piuttosto fresche e pianura invece delle giornate decisamente nitti direi che per ora è tutto partenza poco mossa per piazza affari che rifiata come gli altri principali indici europei che così come Wall Street ieri avevano raggiunto i massimi livelli dell'anno gli investitori europei oggi hanno guardato gli alert lanciati da alcune big quali BMW e UBS l'indice Fuzza e Miba ha chiuso con un calo dello 0,47% e lo share dello 0,51% dopo che ieri aveva chiuso sui nuovi massimi a 5 mesi e mezzo in attesa dell'annuncio Fed sui tassi in arrivo stasera poste italiane prosegue il rally all'indomani dei conti 2018 e ha toccato nel corso della seduta i nuovi massimi storici nel corso del Capital Market Day a Londra l'amministratore delegato Matteo Delfante è rimarcato che sulla possibile revisione rialzo dei target dal 2022 il gruppo deciderà quando sarà opportuno male oggi Fiat Chrysler con un meno 2,51% dopo il rally della vigilia dettato dalle sirene di M&A con la famiglia Peugeot che ha appoggiato l'ipotesi di un round di consolidamento del gruppo PSA Ben ritrovati gentili amici amiche alla visione all'ascolto continua l'informazione su TPN come sempre pagina dedicata al Friuli Venezia Giulia da Udile in questo caso e apriamo subito con il calcio per dire che questa mattina l'udinese calcio ha sollevato dall'incarico Davide Nicola lo ha annunciato la stessa società in un comunicato stampa già però dal primo pomeriggio al centro sportivo Bruseschi in campo il nuovo allenatore Igor Tudor l'anno scorso già sulla panchina ricordiamo dei friulani nelle ultime giornate secondo altre fonti il suo vice sarà Giampiero Pinzi bandiera bianconera uomo giusto come si dice per fare collante tra il tecnico e lo spogliatoio Nicola ricordiamo era subentrato a Julio Velasquez il 13 novembre scorso dopo la sconfitta a Empoli l'allenatore di Luserna San Giovanni è rimasto sulla panchina dei friulani per poco più di quattro mesi la decisione dell'esonera è arrivata dopo le due sconfitte con Juventus e Napoli che hanno portato la società al minimo vantaggio sul terzo ultimo posto a un punto dal Bologna ricordiamo che l'Udinese aveva battuto il Bologna è andato a più sette poi sconfitte con la Juventus e con il Napoli e chiaramente siamo tornati a più uno la domanda nasce spontanea aspettavano adesso per fare il cambio e soprattutto è colpa di Nicola se i risultati non arrivano purtroppo i presidenti e i proprietari non sempre si possono esonerare cresce intanto l'attesa Udine per Italia-Finlandia che sabato prossimo inaugurerà il Cammino degli Azzurri verso Euro 2020 i biglietti venduti sono già oltre i 18.000 con le curve al completo già da qualche giorno in settore distinti in corso di esaurimento i tifosi finnici annunciati sono circa 750 la partita che sarà diretta dall'arbitro israeliano Orel Greenfield alle 20.30 20.45 fischio di inizio e adesso parliamo di Young iniziata oggi alla fiera di Udine questa importante iniziativa una fiera particolare dedicata ai ragazzi e agli studenti per noi sul posto Edi Pertoldi da oggi mercoledì 20 marzo venerdì 22 marzo per molti studenti delle scuole superiori della provincia di Udine Gorizia le lezioni non si svolgeranno in classe ma nel centro congressi della fiera di Udine la materia da conoscere e approfondire il futuro nessuna sfera di cristallo ha bensì tre mattinate intense dedicate all'orientamento dello studio nel lavoro e nell'alternanza scuola lavoro la metodologia applicata è quella consolidata attraverso 13 edizioni di Young Future for You che Udine Gorizia Fiera organizza a stretto contatto con istituzioni e competenze fondamentali per mettere in piedi un evento che mobilita una ventina di scuole superiori della provincia di Udine Gorizia tra licei istituti industriali e professionali che in tre mattinate propone un fitto calendario di incontri con taglio diretto concreti nei contenuti e con approccio informale per stimolare il dialogo ed il confronto con i giovani 13 edizioni sono tante vuol dire che ormai è consolidato e non solo questo lo recepiamo perché quando ci muoviamo per fare l'edizione successiva abbiamo sempre più disponibilità da parte anche degli istituti professionali che ci supportano come dicevo prima 53 scuole e quindi in tre giorni oltre 350 studenti al giorno sono una realtà importante tutte le istituzioni dall'università alla regione alle forze armate ci supportano e anche la camera di commercio e la fondazione la fondazione Crup però questo consente come diceva lei di mettere insieme quelle che sono le realtà produttive al di là delle istituzioni con quello che è il mondo giovanile che è la società di domani per cui è un investimento che noi facciamo molto volentieri e che coordiniamo costantemente per il mondo giovanile ne parlavamo prima con il direttore della fondazione Friuli in un momento in cui prevale l'odio prevale insomma tutto quello che non dovrebbe prevalere abbiamo avuto la percezione che molti ma molti ragazzi si avvicinano alle forze dell'ordine e chiedono informazioni ecco c'è la percezione che ci sia fiducia in queste istituzioni sono fermamente convinto anche perché oggi le scuole di oggi specialmente a livello delle superiori troviamo anche molti etnicità e che queste presenze complessive globali quindi non soltanto finalizzate trovino l'interesse per le forze dell'ordine che è quello che sono i momenti di sicurezza ma indipendentemente da quello che è l'aspetto politico ideologico o religioso è un segnale importante per questa nuova società con la quale noi tentiamo di fare e di far crescere un'ultima considerazione lei che come me ha spesso a che fare con i giovani dobbiamo sfatare l'impressione che si ha che questi giovani siano degli smidollati i ragazzi di oggi sono ragazzi veramente intelligenti interessati a tantissime cose ecco questo è un messaggio che mi piacerebbe trasmettere sono fermamente convinto un elemento che ci rafforza su questa su questa idea di questa posizione è quello che hanno fatto i giovani perché la maggioranza mondiale in questa manifestazione dell'ambiente che hanno fatto la settimana scorsa al di là della iniziativa della svedese che lascia il tempo che trova perché parte sempre da qualcosa ma l'adesione mondiale dei giovani a questo problema che è quello che sarà il loro mondo di domani è un segnale per me importantissimo che dobbiamo noi che gli abbiamo dato questo mondo giusto o qualche volta sbagliato di aiutarli e di dargli forza l'obiettivo di questa manifestazione è proprio di riuscire in qualche modo a infondere un pochino di ottimismo sono perfettamente d'accordo con lei e la ringrazio volutamente organizzato a salone aperto l'incontro con la stampa di oggi ha messo insieme organizzatori e partner negli interventi di Luciano Sneder che abbiamo appena ascoltato presidente di Udine Gorizia Fiere e Patrizia Pavatti dirigente titolare ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia Miur Fabio Passon presidente comitato imprenditoria giovanile camera di commercio di Pordenone Udine Laura Rizzi delegata del rettore per servizi orientamento università degli studi di Udine ed il direttore della fondazione Friuli Luciano Donis quello del sostegno ai giovani è una delle linee anzi la linea più importante della nostra azione in particolare sull'istruzione noi dedichiamo il 30% del nostro budget fra l'altro ancora in corso in questi giorni fino a fine mese il bando che abbiamo lanciato rivolto le scuole superiori terminerà a fine mese ma è diciamo il mondo nel quale la fondazione opera in maniera più importante e mai come in questo momento gli incontri tra chi lavora e chi studia è diventato direi quasi essenziale sì è essenziale perché perché il mondo è sempre più complicato sempre più complesso non solo cambia continuamente e quindi capiamo bene che un giovane può essere ed è effettivamente molto disorientato e quindi eventi di questo tipo possono dargli un grande aiuto per trovare la sua strada abbiamo notato molti ragazzi attorno ai carabinieri alle forze dell'ordine ecco c'è la percezione che ci sia molta stima e fiducia verso quest'arma verso questo settore per fortuna che almeno abbiamo ancora dei punti di riferimento ma penso che i giovani si è interessati un po' a tutti forse questa forse c'è ancora il fascino della divisa delle istituzioni che riferivo ai momenti che stiamo attraversando c'è comunque questa gioventù che crede ancora in qualcosa ecco diciamo ma certo io penso che che diciamo tutti i profeti di sventura che dicono che la gioventù non è più quella di una volta eccetera dicono cose che probabilmente non sono vere tutte le volte che noi ci troviamo ad incontrare dei giovani nei vari eventi che sosteniamo troviamo delle persone che ci stupiscono sempre ecco e poi c'è la pratica perché ci sono convegni ci sono incontri proprio con gente che lavora nello specifico quindi non è teoria è proprio pratica sì appunto questo è il valore aggiunto importante di questa manifestazione che che fa il paio con quella che pure sosteniamo alla fiera di Pordenone in autunno che si chiama punto d'incontro sono tutte e due manifestazioni che hanno un taglio operativo cioè non sono semplici conferenze abbastanza che possono essere anche noiose sono laboratori sono workshop in cui i ragazzi possono effettivamente dire la propria e non stare passivamente di fronte a qualcuno che parla insomma e andiamo a chiudere con il nostro ospite perché è venuto a trovarci Agostino Michelin che è il presidente dell'associazione imprenditori boschivi del Friuli Venezia Giulia come sapete lo scorso 31 ottobre primi di novembre c'è stata una violenta ondata di maltempo che si è fatta sentire in Friuli Venezia Giulia in particolare nell'arco montano dove migliaia di alberi sono stati completamente distrutti dalla violenza del fortunale con noi è venuto a trovarci Michelin perché ci vuole raccontare qualcosa di particolare perché c'era una canzone che diceva per fare l'albero ci vuole il fiore e in Friuli il fiore nasce sempre è sempre pronto a spuntare così Michelin sì sicuramente il disastro che abbiamo registrato non sarà sicuramente non è il primo ci sono già stati dei preamboli non sarà sicuramente l'ultimo perché gli eventi climatici che ormai per assodato danno cambiamenti repentini e sempre più frequenti però è anche vero che dobbiamo guardare più in là uno secolo fa è avvenuto lo stesso lo stesso disastro ed ora dobbiamo pensare oltre ai fatti imminenti cioè al recupero delle gname anche al futuro cioè alla ricostruzione con le varie modalità tecniche che i tecnici i miei colleghi sicuramente sapranno affrontare ricostruirlo e ridare vitalità alle zone di montagna ecco l'importanza della sua presenza oggi è questa quella di lanciare non solo un messaggio chiaro e trasparente di speranza eccetera ma come vedete il signor Michelin non è come Marco Stantini giacca e cravatta tranquillo e beato lui ha i calli nelle mani insieme ai suoi collaboratori ed altri imprenditori del settore sin da subito si sono messi all'opera per ripartire perché come diceva qualcuno anni fa non bisogna piangere bisogna costruire non fare perché le lacrime si sciolgono subito e le case e tutto quello che conta deve essere ricostruito come l'impresa boschiva in Friuli Venezia Giulia perché è un importante settore di spinta per quanto riguarda anche il discorso legato poi all'arredo e via dicendo e allora come dice giustamente Michelin dobbiamo andare avanti non possiamo stare qui ad aspettare e insieme agli imprenditori i suoi colleghi dell'Alto Friuli siete già subito avanti per cercare di dare quella qualità quell'economia far girare quell'economia tanto vanto per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia bisogna fare una considerazione la prima che per molto tempo il settore forestale cioè quello delle utilizzazioni boschive a parte grandi operatori forestali lungimiranti che hanno investito soprattutto in sicurezza e in macchinari innovativi hanno il settore è stato tenuto una temina in disparte questo evento ha costretto tutti ma completamente tutti a fare effettivamente i conti con una situazione che è disastrosa possiamo dire senz'altro che i primi ad uscire a sporcarsi a immergersi nel fango nella pioggia sono stati proprio gli operatori forestali chiamati dai privati chiamati dalla gente che andava a soccorre cioè dei vigili del fuoco della protezione civile e non si sono certamente posti il problema chi va avanti per primo o quant'altro perché certe problematiche legate agli schianti delle piante li possono risolvere solo gli operatori forestali che hanno l'attrezzatura che hanno la formazione che hanno la protezione e l'esperienza per risolvere alcune problematiche particolari in aiuto evidentemente a tutti gli altri volontari che hanno messo la loro parte è un processo che andrà avanti di recupero del materiale ma anche della ricostruzione che non è non si riserverà con questo tunnel uno dei grossi problemi è ripristinare la viabilità sia all'accesso ai territori per il recupero delle gname ma anche per portarlo fuori pensiamo alle maghe che hanno che sono rimaste isolati e quindi ridare un attimino di speranza a queste persone e all'economia locale teniamo conto che operare in bosco in queste situazioni cioè con interi ettari disastrati con piante schiantati non è una procedura di utilizzazione normale perché le piante si comportano in maniera completamente diversa quindi i rischi per gli operatori sono molto ma molto più evidenti possono intervenire non si pensi di andare lì con attrezzatura leggera soltanto operatori esperti con macchinari adatti possono operare quindi non scandializziamoci se alcune imprese saranno lasciate da parte interverranno le ditte straniere soprattutto il centro Europa che hanno avuto nel pregresso pensiamo a Lothar e altri eventi già esperienze di questo tipo quindi grandi macchinari velocità di lavoro capacità di organizzare i cantieri noi purtroppo è la prima volta che ci troviamo con entità con disastri di questa entità e quindi ci servirà soprattutto da esperienza per il futuro quindi dotazione di macchinari formazione addirittura la mia così aspirazione sarebbe quella di riaprire quella famosa scuola che avevamo e l'ho detto in più occasione avevamo a Paluzza la scuola per operatori forestali adattandole alle esigenze attuali sappiamo che in bosco non si va quasi più con la motosega col trattore vericello si vuole l'operaio specializzato si vuole l'operaio che abbia a che fare che sappia maneggiare macchine di grande costo di grande difficoltà che abbia nozione di informatica perché ormai tutto è fatto a schede a computer di bordo e soprattutto abbia cognizione di sicurezza sui cantieri di lavoro che è una cosa che non può essere mai sottovalutata mai in maniera più assoluta senta Michelin purtroppo il tempo come si dice a nostra disposizione è tiranno però io avrei idea di realizzare con lei con i suoi collaboratori uno specialino che poi manderemo in onda a Pasqua per far vedere come si lavora e soprattutto come i friulani e anche i carnici perché comunque facciamo parte della stessa regione dimostrano con i fatti e con la serietà per cui il loro DNA si è come si dice espanso nel tempo seppur arrivati i barbari ma sempre sempre quello è e cercheremo insomma di organizzarci per realizzare proprio uno specialino che mostreremo poi il periodo di Pasqua ai telespettatori di TPN per dire che qui si parla poco ma si lavora soprattutto meno chiacchiere più i calli ci sono da 30 anni siamo assolutamente disponibili e che veniate su un cantiere sarete naturalmente ospiti nostri in quell'occasione vi diremo alcuni messaggi soprattutto quando andremo ad operare ormai i cantieri sono quasi tutti aperti visto l'andamento climatico invernale tantissime ditte hanno lavorato in alcuni comuni hanno recuperato quasi tutto legname ci sono alcune problematiche legate la viabilità a cui daremo una mano per ripristinarla assieme alla regione però stiamo lavorando the work in progress the work in progress ecco io ringrazio l'ospite ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto come sempre termina qui la pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia ma l'informazione su TPN continua dopo il break pubblicitario la linea ai colleghi del Veneto mi trovate anche dalla nostra redazione del Veneto in apertura l'economia in frenata la contrazione dei prestiti bancari alle imprese venete che nell'ultimo anno sono diminuite di 653 milioni di euro ma che negli ultimi sette sono diminuiti del 29,9% pari a 30,1 miliardi di euro lo si evince dall'ultima indagine della CGA di Mestre con meno disponibilità di risorse finanziarie ha detto il coordinatore dello studio Mestrino Paolo Zabeo non è da escludere che molte piccole e medie imprese si siano rivolte a forme di approvvigionamento del credito illegale controllate anche dal Veneto secondo la CGA da organizzazioni criminali il presidente della regione Luca Zaia ha chiesto al governo la proroga di un anno dello stato di emergenza per le zone PFAS infatti in relazione alla contaminazione da sostanze perforo alchiliche delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza Verona e Padova il governatore ha inviato al governo la richiesta di proroga di un anno dello stato di emergenza l'odierna richiesta è stata avanzata per permettere di completare tutte le opere acquedottistiche previste data la complessità degli interventi la proroga permette di poter disporre del tempo necessario per l'avvio di tutte le opere garantendo un flusso costante di informazioni e un aggiornamento costante sullo stato di attuazione direttamente con il Dipartimento di Protezione Civile la scuola come arma di riscatto di reinserimento sociale questo l'obiettivo dell'alleanza educativa che Regione Veneto ufficio scolastico regionale del MIUR Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile del nord-est hanno siglato per assicurare a tutti i detenuti adulti e minori la possibilità di accedere in qualsiasi momento dell'anno ad un percorso scolastico o formativo e di conseguire quindi un diploma il cuore dell'intesa sono gli interventi per gli adulti sia detenuti sia in uscita dal sistema penitenziario i calabinieri della compagnia di Venezia continuamente impegnati nell'ambito dei servizi per contrastare il proliferare di sostanze stupefacenti all'interno degli istituti hanno effettuato nelle ultime ore tre blitz nel veneziano all'istituto alberghiero Andrea Barbarigo il Vendramin Correr e il Giorgio Cini al suono della campanella oltre agli insegnanti ad attendere gli studenti c'erano anche i calabinieri con un nutrito dispositivo di uomini sia in uniforme che in borghese e con l'ausilio dell'unità Cinoficla ebbene nel primo istituto controllato nulla è stato rilevato mentre al Nautico un ragazzo è stato trovato in possesso di quattro dosi di Ascis preconfezionate e pronte allo smercio motivo per cui poi è stata estesa la perquisizione anche nella stanza dallo stesso occupata presso il convitto appartenente al medesimo istituto dove i calabinieri hanno rinvenuto altre otto dosi della medesima sostanza motivo per il quale il ragazzo è stato deferito alla procura della Repubblica di Venezia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spazio parliamo di turismo perché Alessandro Bertone il nuovo presidente di Unio Mare Veneto la più importante associazione per la tutela e lo sviluppo del settore balneare della nostra regione lo abbiamo sentito Unio Mare è un'associazione molto importante perché rappresenta tutti i balneari del Veneto è un comparto strategico di quello che è il tessuto economico della nostra regione e rappresenta tantissime aziende su dieci località lungo la costa della nostra bellissima regione e deve affermarsi ancora di più di quanto è riuscito a fare sino ad ora per diventare un interlocutore importante a livello istituzionale e potersi occupare di tutte quelle che sono le tematiche di programmazione turistica legate al comparto balneare Unio Mare incarna lo spirito della costa veneta perché è un sindacato di categoria che appunto tocca come ha detto bene lei tutte le località balneari della nostra regione la logica del campanile è una logica che ormai non paga più altre iniziative che ci hanno visto indirettamente protagonisti come quella della promozione legata alle attività che sono state svolte negli scorsi mesi ci hanno dimostrato come anche realtà meno strutturate a livello di località nel momento in cui riescono a fare squadra a sinergia possono accedere a degli obiettivi importanti questo è esattamente la vision che vorremmo portare in tutte le nostre iniziative nemmeno le località più grandi e più forti e strutturate possono prescindere dalla sinergia con le piccole per cui da San Michele a Rosolina passando per tutte le bellissime località della costa veneta e non vorrei dimenticare nemmeno una quindi Iesolo Cavalino Treporti Iraclea Caorle e quant'altro ognuna di queste località ha delle caratteristiche assolutamente distintive la nostra forza è che il litorale Veneto unito non teme veramente il confronto con nessun'altra località e destinazione a parlare di turismo perché Vivione si candida a diventare la prima località balneare italiana in grado di offrire ospitalità accessibile al 100% un progetto che darà i primi risultati già dalla prossima stagione e che avrà come partner Village4All l'operatore specializzato proprio nel turismo accessibile che guiderà passo dopo passo tutte le attività del processo di potenziamento dell'accessibilità dalla formazione del personale al monitoraggio delle strutture ricettive l'annuncio è arrivato oggi direttamente dalla borsa del turismo online di Firenze è stato annunciato dalla presidente del consorzio Bibione Live Giuliana Basso Porto Gruaro entro due settimane saranno assegnati gli appartamenti in via Aldo Moro agli inquilini Atter del condominio di Viale Venezia entro circa un mese anche gli alloggi ai proprietari privati Lorenzo Noto Atter prosegue il lavoro di coordinamento tra l'ente e il comune per cercare di ridurre al massimo al minimo i disagi degli inquilini che hanno dovuto lasciare il condominio in Viale Venezia e sono ospitati in vicine strutture ricettive o da amici e parenti l'Atter proprietaria di due terzi dell'edificio e il comune di Porto Gruaro intendono andare incontro a tutti gli ex residenti anche sul fronte del vitto una delle soluzioni che si sta cercando di attivare la convenzione con una mensa di una vicina struttura assistenziale per i pasti l'edificio di Viale Venezia presenta delle criticità strutturali che sono state riscontrate da un'indagine strumentale e geotecnica ad alloggiare nelle strutture ricettive con prima colazione ad oggi sono 8 nuclei familiari in tutto 19 persone 9 di queste sono inquilini degli alloggi pubblici Atter dell'edificio e 10 sono residenti degli alloggi privati ci siamo attivati assieme al comune per concorrere alle spese dell'alloggio e del vitto proprio per andare incontro agli inquilini che stanno vivendo un momento difficile ha detto Raffaele Speranzon che è il presidente di Atter Venezia nonostante i disagi del trasferimento e le polemiche è fondamentale sottolineare che la perizia voluta dall'Atter sia rivelata fondamentale non si poteva fare altrimenti per tutelare l'incolumità dei residenti ebbene ci siamo messi subito appena ricevuto l'esito della perizia al lavoro tanto che abbiamo individuato gli appartamenti alternativi e avvertito le imprese che si sono messe al lavoro per sistemarli ebbene torniamo a parlare anche di turismo ma lo facciamo in relazione a Cavallino Treporti e della sua vicinanza con Venezia in particolar modo con il progetto Venice Board la particolarità di quello che presenteremo a breve è questa tipologia di servizio che ci permette il trasferimento sia da Punta Sabioni per l'aeroporto e dall'aeroporto per Punta Sabioni in maniera molto più celere degli attuali tempi di percorrenza ne parliamo di un'ora scarsa ci sono i pontili dedicati sia a Punta Sabioni sia all'aeroporto e permette praticamente di togliere da strada tutta una serie di criticità che attualmente ci sono soprattutto nel periodo in cui noi spletteremo il servizio per cui il servizio su gomma dura molto di più non per colpa di nessuno ma proprio per l'aumento su strada che crea questa tipologia di servizio allora noi abbiamo vent'anni di esperienza facciamo già tutta una serie di servizi per conto di ACTV quindi viaggiamo in laguna di giorno di notte con tutti i tempi AC24 allora una delle criticità del nostro territorio è la viabilità e quindi questo è una alternativa seria credibile che viene messa come servizio per l'intero territorio e quindi una grande opportunità poi permettetemi anche di dire un'altra cosa che è un'azienda storica che ce la presenta però questo è un servizio che è da start-up e quindi qualsiasi start-up qualsiasi servizio innovativo che viene presentato al comune per noi è motivo di grande orgoglio quindi questo è l'obiettivo che ci poniamo con tutte le eccellenze del nostro territorio vorremmo averne qualcuna in più Concordia Sagittaria Daini Scandescenze 23enne originario di Latisana viene arrestato dai carabinieri è accaduto alle 4 del mattino fuori da un locale il ragazzo prima non voleva salire sulla vettura di servizio poi è stato accompagnato nella cella di sicurezza dai militari dell'arma è dichiarato in arresto per resistenza stato di ebrezza e linguaggio blasfemo davanti al giudice questa mattina è stato liberato dopo aver patteggiato due mesi e 20 giorni di pena poi sospesa torniamo a Porto Gruaro soccorsa a 24 ore di distanza dopo un malore in casa una donna di 49 anni è stata salvata in un appartamento in via Croce Rossa nella serata di ieri dall'alarma è stata una conoscente sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno aperto la porta d'ingresso dell'abitazione gli operatori sanitari del suo M118 e i carabinieri della locale compagnia l'inculina non era riuscita ad afferrare il telefono per invocare aiuto è stata poi trasferita in ospedale per le cure del caso a proposito di ospedale andiamo a San Donà perché lunedì mattina i primi due pazienti pazienti diversamente abili sono stati sottoposti al trattamento odontoiatrico in anestesia generale le loro condizioni psicofisiche non permettevano il trattamento consueto ad esempio l'estrazione di un dente in anestesia locale in quanto tale procedura sarebbe stata rischiosa per la loro salute la notizia che praticamente all'ospedale situato sulla rive del Piave gli utenti disabili possono da qualche giorno usufruire dell'anestesia generale per le cure odontoiatriche a Caorle il consiglio comunale nella seduta pubblica di lunedì ha approvato le nuove tariffe inutasi e tari le prime due imposte non subiranno modifiche mentre la tari è stata ritoccata leggermente a rialzo così come in altri comuni soci dell'azienda Asvo che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti sulla tari la minoranza si è astenuta altri punti del consiglio l'aggiornamento del bilancio di previsione fino al 2021 è passato con i voti contrari dell'opposizione voto unanime invece per la modifica alla convenzione con il comune di Portogruaro per le sepolture d'oltre Laguna il prossimo 24 marzo sarà celebrata invece la terza giornata europea del gerato artigianale cambiamo argomento perché per l'occasione i gelatieri hanno scelto come gusto dell'anno il tiramisù due tradizioni dolciarie venete che hanno conquistato il mondo si tratta di un traguardo raggiunto nel 2012 dopo la prima richiesta avanzata all'euro parlamento nel 2009 grazie anche al lavoro dell'entourage della fiera di Longarone sede dal 1959 della mostra internazionale del gelato artigianale e da Art Glaze la confederazione dei gelatieri artigiani di sette stati europei il parlamento europeo definì il gelato come l'eccellenza tra i prodotti lattiero-caseari in termini di qualità e sicurezza alimentare ancora oggi è l'unica giornata che l'istituzione europea dedica ad un alimento e con questo è tutto grazie per averci seguito vi lascio alle nostre previsioni del tempo a voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione arrivederci Giovedì cielo sereno al più poco nuvoloso per passaggi di sottili nubi alte buona visibilità e clima asciutto precipitazioni assenti temperature minime senza notevoli variazioni congelate diffuse sulle zone montane e valori prossimi o poco superiori allo zero in pianura massime in contenuta ripresa più sensibili in montagna con marcata escursione termica tra il giorno e la notte venti in quota deboli o moderati da est nelle valli deboli variabili in pianura generalmente deboli sulle zone setenzionali su quelle centro-meridionali moderati a tratti anche tesi sulla costa da nord-est in parziale attenuazione dal pomeriggio mare mosso molto mosso al mattino con moto ondoso in successiva attenuazione grazie a tutti buongiorno grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti